E' arrivata la confessione di Gaia Gigli dopo Uomini e Donne. Cosa ha detto l'ex corteggiatrice del dating show? Uomini e Donne. Il celebre talk condotto da Maria De Filippi ha chiuso definitivamente i battenti. I telespettatori debbono dunque attendere che giunga settembre per scoprire chi saranno i nuovi tronisti che animeranno la stagione che partirà tra qualche mese. Quella che è terminata è stata una delle più emozionanti, poiché sono sbocciate fior fior di coppie. Sia al trono degli over sia in quello classico, sono nati amori travolgenti che hanno appassionato i telespettatori. Tra le coppie fiorite proprio grazie al programma. Quella più chiacchierata di recente. E' costituita da Daniele Paudice e Gaia Gigli. Come è noto il tronista napoletano. Al termine del suo percorso sul trono rosso ha fatto il nome di Gaia, e lei gli ha risposto di sì. Che avrebbe voluto stare con lui al di fuori degli studi Elios. La scelta di Daniele è stata molto criticata. Poiché sul web si è vociferato che i due si conoscessero ben prima di partecipare al talk. Si tratta di un rumors che si è diffuso velocemente in rete e... taluni ritengono che se ciò corrispondesse al vero, starebbe a significare che avrebbero, mentito, alla redazione. Gaia vuota il sacco. Dopo Uomini e Donne arriva la confessione. Lui è... Per questo in tantissimi si sono riversati sulle pagine social sia di Daniele sia di Gaia. Chiedendo loro se davvero si conoscessero prima di approdare nello studio di Uomini e Donne. Nelle scorse ore Gaia ha deciso di rispondere. Chiarendo la faccenda. Se infatti fino a qualche settimana fa ha preferito soprassedere, e... mantenere il riservo. Oggi ha rotto il silenzio. Gaia ha detto senza mezze misure che non si conoscevano affatto prima di partecipare ad Uomini e Donne. Un'altra domanda che le è stata posta da un utente ha sollevato particolare curiosità. Per la sua risposta. Una follower le ha infatti chiesto quale lato di Daniele l'ha maggiormente colpita ora che si conoscono meglio e che sono una coppia. Gaia ha confessato che è rimasta letteralmente stupita dalla profonda intelligenza di Paudice. Un modo ironico e goliardico per manifestare la stima e... Il profondo affetto che nutre nei suoi confronti. La sua risposta esilarante ha fatto il giro della rete ed in tantissimi le hanno fatto i complimenti per l'ironia. L'ex corteggiatrice ha poi rassicurato i fan. Tra qualche giorno farà una diretta con Daniele. Così da poter interagire con loro. La sua risposta